Stanno parzando tutti eh Bello Ehi Piano 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 Poverino questo è zoppo Vieni 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 bello È zoppo? O è piccino? 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 Cornicione bianco è meglio Sotto agli archi vai Intanto guardate qualche paesaggio che c'è Spettacolare e non ci si gusta questo gelato mmmm mmmm Vico di Bashi 95 passi e allora andiamo a vedere sto Vico di Bashi guarda che bello Nonna Peppino guardate le belle pinte oh qui hanno tutto ricostruito ma passa? ma passa? ma passa? mamma mia anche qui creato tutto dopo Kalasho qui c'è la Rocca di Kalasho che è impossibile da visitare perché c'è il mondo però è là sopra la vediamo e quindi è come se si fosse vista ed eccoci qua guardate che tramonto che c'è ancora non è tramonto però sta beccato il raggio di gamma che sei oh brava 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 l'ultimo paese conosciuto che si chiama Castel del Monte abbiamo fatto un piccolo valico di 1600 metri adesso stiamo di nuovo scendendo e non so saremo su 1100 1200 due l'antipiano più o meno è su questa vuota guardate da camper che c'è qui è una cosa allucinante impressionante ma noi dove siamo? guardate qua che paesaggi guardate qua che paesaggi vediamo il nostro nuovo accampamento davanti a questa bellezza ecco ed ecco l'accampamento finito si per favore una Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Buongiorno a tutti, guardate che giornata! Che bellezza, alzarsi la mattina in mezzo a tutto ciò! Guardate qua, che paesaggio, non c'è una nuvola! E poi abbiamo dormito tutta la notte con i pascoli! Sentite! Grazie! 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 Questa colazione mattina! Il sole in fronte è questo paesaggio spettacolare! E guardate le crustatine! Quelle non le molla mai! Ma ci sa anche il pane con la marmellata! Che mi sembra più attività! Guardate le mucche che attraversano qui! Attraversano tutte! Questa è la scuola più bella! Guardate! 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 Quella scuola è più bella! Questa è l'immensità della nostra palla! Guardate che bellezza! Che spettacolo! Abbiamo un po' di bella pace! Ora andiamo a scusare un po' qui! Che si vede da qui! Mamma mia si spoggetta! Questa palla! Guardate che bellezza! Guardate qua! Qui c'è la fattoria dove vendono il formaggio! Dove andremo più tardi! A prendere il formaggio buono! Mamma mia che bellezza! Guardate qua! Guardate qua che rovina! Che bellini cavalli! Guardate in fondo! Questa è qua, che è natura Ed eccoci al nostro nuovo accampamento, siamo ad Amatrice a pochi passi e ci stiamo preparando per il pranzo, oggi uova, qui c'è anche una casa un po' rotta, diroccata, però non ci interessa che siamo qui e ci prepariamo a mangiare Buono, sono belle grosse Uova Uova pronte Pronte da mangiare, buon appetito Enjoy C'è una strada impiccatissima, loro sono più impiccati di noi, guardate qualche strada e che panorama E' bello così, guardate il bacco che hanno fatto L'ho tagliato la pietra e poi i passaggi Bello, guarda qua Questo è con la filone, c'è il vento provincia Guarda questo Oh, e qui? Salsiccia, rosticini E anche il colpo Dove si mangia e dove Vada qualche roba Qui si va dritto Sì Guardate qualche lavori Dove si mangia? Sì, sì, non ti preoccupa Arosticini Qui siamo al punto infatti che si scolleca Questo è il bar E quella è la piana di Castelluccio Sì, dell'Italia Esatto, bravo Questa è la piana di Castelluccio Guardate là gli escursionisti Là sopra che vanno a conquistare la vetta E' bello adesso E laggiù c'è la piana di Castelluccio Come vedete? Un'Italia di alberi Ed ecco che si va verso la piana di Castelluccio Vedete l'Italia? Ok Che è qui sofferente E qui veramente sofferente L'hanno sdraiata E qui rimane il paese di Castelluccio Ciò che è stato raso al suolo dal terremoto Purtroppo Da zona sismina questa Che è stata nel 2016 Terremotato nel terremoto Da lui con il terremoto Dice non è un'altra Ah no quella è la Leanna Grazie a tutti. E da qui salutiamo la piana di Castelluccio. Qui siamo dalla parte opposta a Castelluccio in Orcia e qui è dove si fece un campeggio tanti anni fa. Quello è Castelluccio in Orcia. L'abbiamo attraversato ma pieno di casino, di macchine, di tutto crollato ma insomma. Ciao Castelluccio di Orcia. That I love you.